Buongiorno a tutti. Nel riprendere il volume Il Patto d'Acciaio di Fompleve, che abbiamo in qualche modo già avuto modo di esaminare, di utilizzare, ne ho parlato, questo volume di memorie, un volume di memorie rilette, riesaminate successivamente alla guerra, quindi in qualche modo hanno un po' il vizio del seno del poi, hanno un po' il vizio dell'essere un po' anche ruffiane nel tipo di andamento che la politica generale occidentale può avere avuto nei 25 anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale e quindi anche nel tipo di approccio che i tedeschi, una parte dei tedeschi, di quei tedeschi che in qualche modo hanno aderito convintamente alla Repubblica Federale, che in qualche modo hanno proseguito la propria carriera all'interno di alcuni organismi importanti nazionali ed esteri afferenti al mondo occidentale. Quindi il volume di Fompleve è da prendere con debita considerazione per quel che vale, per le informazioni che offre, ma sempre con una certa attenzione e non dando nulla per scontato. Detto questo, alcune pagine che mi sono sembrate particolarmente interessanti, anche in relazione ad altri volumi, mi viene in mente le memorie di Carmine Senise, per esempio, e che magari potremmo fare un video apposito di comparazione, in cui potremmo anche andare a riprendere il volume di Senise e cercare di trovare dei punti di contatto, degli elementi di interesse con questa narrazione, è relativo al rapporto che a Roma, soprattutto nell'estate del 1943, si andò a instaurare tra Kappler e Dolman, due alti ufficiali della polizia tedesca, che gravitavano intorno all'ambasciata tedesca a Roma, che avevano un collegamento diretto con Himmler, che avevano relazioni, avevano avuto relazioni o avrebbero avuto in qualche modo relazioni anche con Hitler, quindi due personaggi che ci offrono tanti aspetti interessanti, non fosse altro poi per le implicazioni dirette o indirette che ebbero nei fatti dell'eccidio delle fosse ardiatine, pensiamo appunto due personaggi che dopo la Seconda Guerra Mondiale pagarono poco, pagarono nulla delle responsabilità gravissime che ebbero durante la Seconda Guerra Mondiale, tutta una serie di misfatti, di implicazioni, di sotterfugi, di crimini veri e propri. Dolman pensiamo che dopo la guerra fu anche accusato di adescamento, quindi diciamo dei personaggi che non lasciavano nulla all'immaginabile, che appunto erano talmente intrisi di sotterfugi, di crimini, di bassezze, di nefandezze, di tradimenti incrociati, di veramente di modi osceni di poter gestire la cosa pubblica e nella cosa pubblica viene anche la pubblica sicurezza. Ecco, diciamo che sono due personaggi talmente bieghi che riuscivano ad essere bieghi anche tra di loro. E Von Plepe ce ne dà uno spaccato veramente, veramente curioso. Nel pomeriggio del 27 luglio, ovviamente 1143, quindi siamo all'indomani di tutto ciò che sappiamo, la caduta del fascismo, l'arresto di Mussolini, l'instaurazione del governo Badoglio, apparve nel mio ufficio, l'addetto alla polizia Kappler. Oggi egli si trova ancora in una prigione italiana perché fu ritenuto responsabile dell'eccidio delle 335 ostaggi italiane alle Fossi Orderini. Questo volume è stato scritto nella fine degli anni Sessanta, quindi diciamo va da sé che ha una sua collocazione particolare anche in questi fatti che va a citare. Noi ci eravamo incontrate di quando in quando in manifestazioni mondane e in feste ufficiali. Oltre a ciò, nel 142 avevamo avuto un diverbio nel quale Kappler però si era mostrato relativamente generoso. Allora mi aveva fatto rimproveri perché avevo ricevuto in casa mia lo scrittore Joachim von Kurenberg che viveva in Italia come rifugiato e qui cita il fatto che Von Plewe fu accusato di aver favorito anche la fuga di Kurenberg. Diciamo in qualche modo fa capire di alcuni elementi ipegressi in cui Kappler sospettava di Von Plewe. Nonostante ciò, Kappler mi confessò il 27 luglio che doveva pregarmi di dirgli il mio giudizio sulla situazione. Aveva ricevuto dal suo superiore Heinrich Himmler, comandante delle SS del Reich, l'ordine di organizzare misure locali per ristabilire il fascismo. Per il momento egli non si sentiva d'accordo con questo progetto poiché era convinto del crollo totale del partito fascista e fece una metafora, secondo me molto molto puntuale, seppur pittoresca, e fece il confronto con un bambino che ha vomitato una minestra di sapore cattivo al quale non la si può far trangugiare di nuovo con la forza. Per sostenere questo punto di vista si era annunciato a Himmler per un rapporto personale. Prima voleva sentire la mia opinione che sicuramente coincideva con il giudizio del generale von Rintel, addetto militare tedesco all'ambasciata di Roma. Una particolare difficoltà gli veniva dal fatto che Dolman, da un paio d'ore, aveva voltato faccia e dopo la prima scossa era ormai pronto ad appoggiare completamente gli scopi di Himmler. Prima di volare da Himmler, Kappler voleva cercare un appoggio alla sua opinione da parte dell'addetto militare. Lui di speciale importanza perché l'addetto militare aveva strette relazioni con le personalità italiane ora influenti, mentre l'ambasciatore Dolman e egli stesso, dalla sera del 25 luglio, non avevano interlocutori di rilievo. Risposi con poche parole che condividevo senza limiti il suo giudizio negativo sulla possibilità di far risorgere il fascismo, potevo solamente augurargli, nell'interesse tedesco come in quello italiano, un pieno successo del suo rapporto. Alla fine Kappler accennò che avrebbe esposto il suo parere ad Himmler apertamente, ma come impiegato ubbidiente avrebbe poi eseguito fedelmente i suoi ordini definitivi qualunque fosse. E sappiamo come Kappler vada sempre al nocciolo e esegua qualsiasi cosa, e lo vedremo poi anche nelle sue tentative di difendersi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Mi avrebbe informato sul risultato del suo viaggio. Kappler e Dolman, ambedue dipendenti direttamente da Himmler, erano rivali. Mentre il primo, come ha detto alla polizia, doveva occuparsi di risolvere immediatamente molti compiti spiacevoli, Dolman pescava nel torbito all'ombra dell'ambasciatore. Mentre Kappler doveva mettere le carte in tavole costantemente anche di fronte agli italiani, Dolman poteva nascondersi a piacimento. Alle ambasciate di allora erano frammischiati i rappresentanti delle SS, ciò portava spesso a situazioni intollerabili. Dolman faceva l'effetto di uno spirito maligno nell'ambasciata di Roma. Ciò era dovuto alla sua posizione di spia ufficiale di Himmler e al suo analogo incarico d'ufficio. Il principe Bismarck espresse alcune volte nella nostra piccola cerchia che dovevamo abituarci al pensiero che questo Dolman un giorno ci avrebbe arrestati. Quando Dolman era presente ai ricevimenti, gli amici si mettevano in guardia reciprocamente affinché non venisse pronunciata troppo ad alta voce alcuna parola aperta. Questo Dolman aveva una simpatia, riscuteva e simpatiava a destra e a manca. Dolman aveva contatti con l'ambiente di Mussolini, ma soprattutto con i servizi segreti di polizia come pure con i rappresentanti estremisti del partito fascista. Aveva grandi e belle conoscenze. Aveva potuto infiltrarsi anche nella cerchia della cosiddetta società romana, sebbene in modo limitato. Speciale fornitore di notizie per Dolman era insieme con Farinacci anche Buffarini Guidi. Buffarini fino al febbraio 1943 era stato segretario di Stato nel Ministero degli Interni. La sua reputazione nel partito era diventata poco a poco altrettanto equivoca di quella di Farinacci. Non fosse altro perché Buffarini Guidi teneva due piedi in due scarpe appoggiando i petacci, cercando di mettere i bastoni fra le ruote a tutti quelli che in qualche modo cercavano di evitare che egli prendesse tutto il potere essendo comunque per circa dieci anni il capo del Ministero degli Interni. E lo sarà anche nella Repubblica Sociale con altre intrighi, con altre cose mischine. Quando Itra, nell'autunno del 1943, installò nell'Italia settentrionale la cosiddetta Repubblica Sociale Italiana, Buffarini divenne Ministro degli Interni. Ecco, uno bisogna trovare, ha andato Buffarini Guidi. Egli governò in questo stato fittizio, politicamente così travagliato, infelice, neofascista, secondo il modello di Fouché o, come dice, Anfuso, come l'ultimo italiano del Rinascimento, in senso negativo del termine. In quest'epoca Dolman gli stette accanto come uovo di collegamento con Himmler, l'aveva tenuto a Bari sostanzialmente. Nel 1945 Buffarini venne fucilato. La letteratura del dopoguerra abiasima molto Dolman. Bendonde. Walter Hagen dimostra con argomenti convincenti quanto Himmler apprezzasse i servizi di Dolman. E se li apprezzava Himmler, diciamo che era una garanzia. Nella istruttiva compilazione dei colloqui di Hitler sulla situazione si afferma, pagina 347, che il duttile, l'intrigante Dolman era nel 1939 a Roma il rappresentante personale di Himmler per l'Italia e durante il periodo della Repubblica Italiana di Salò, autorevole capo della polizia nell'Italia occupata dai tedeschi. La sua pubblicazione, Roma nazista, viene indicata nel medesimo capitolo come un libro pieno di informazioni dubbie e il giudizio è ancora indulgente. Dolman nel 1963 ha scritto un altro libro di questo genere nel quale a pagina 254 nasconde al lettore di essere stato il braccio di Himmler in Italia. Egli non dice chi era il suo padrone e presenta la sua attività esclusivamente come quella di un interprete che indussava contro voglia l'uniforma delle SS, peccato che la portava da più di dieci anni. Nel periodo dopo il 25 luglio Dolman ci fu d'ostacolo in modo speciale perché, contrariamente al riconoscimento dato al principio del crollo totale del partito fascista, parlava di far risuscitare con la violenza il fascismo arrendendosi al volere di Hitler e di Himmler. Diciamo che di fronte a questo quadruccio potremmo dire che a confronto Kapler è veramente uno stinco di santo, è veramente un uomo buono di fronte alle mischilità di Dolman. Ma sappiamo che in realtà sono le due facce della stessa medaglia perché tutti e due sono tirate dai fili e arrivano direttamente a Himmler. Questo secondo me è uno spaccato molto interessante che ci offre nel racconto di Fompleve un reticolo, una descrizione assai puntuale che troveremo in parte anche nelle memorie di Senise. Quindi secondo me teniamocelo buono questo giudizio perché in qualche modo poi nei prossimi giorni vi andrò a leggere alcuni spunti presi dalle memorie di Senise che ci offriranno anche una controprova di questa intrigata e intrigante massa di manovra in cui appunto i tedeschi preparano il terreno e in qualche modo anche lo indirizzano all'interno di quell'Italia che ha cerniera tra il fascismo e il post-fascismo. Detto questo, come al solito, vi do a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!